film televisivo che ha avuto un grande successo, commesse e noi abbiamo qui due commesse e anche la produttrice di questo sceneggiato allora accompagnate diciamo da Edith J. Fenec, Nancy Brilli e Sabrina Ferilli Ciao, 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 ma lo sai che io t'ho lasciato e t'ho ritrovato praticamente perché ci pensavo stasera, noi abbiamo fatto l'ultimo festival che tu hai fatto abbiamo fatto insieme e poi stasera ci ritroviamo, ti riprendo, t'ho lasciato e ti riprendo è difficile per far lavorare tante donne insieme, tu che sei la produttrice, è un lavoro difficile di la verità no, tutti pensano che sia molto difficile e tutti mi dicono ma tu sei matta e tutte queste belle donne insieme, che cosa sarà eccetera, invece sono veramente delle grandi amiche e siamo veramente felici di stare insieme e di lavorare insieme e di sempre, è sempre così, è sempre così molto amiche allora, Mimosa per Sabrina Ferilli, per Nancy Brilli, per Edith J. Fenec grazie, grazie Pippo e allora ci vediamo da domenica, praticamente prossimo, sul Rai 1, in prima serata, noi ti salutiamo, però Pippo scusa, fammi salutare come ti salutano tutti no, 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 no no, ma non l'avrei fatto, ho paura, non si sa quello che si trova di sotto allora è l'unica volta che l'avrei gradito ciao ciao mi è andata male mi è andata male Grazie a tutti.